Due incidenti la scorsa notte a Domodossola e Villa Dossola. Nel primo si è rischiato grosso, essendo venuto a due passi da un bar dove spesso all'esterno stazionano diverse persone. E' accaduto dopo le 21 di venerdì sera, quando un camioncino condotto da un giovane di Masera è piombato su alcune auto parcheggiate in via Galletti. Il camioncino ha colpito le vetture sul lato sinistro della strada, lungo un marciapiede che nel fine settimana vede anche un discreto passeggiamento. Ma lì vicino c'erano anche diversi giovani seduti al De Or del Bar Italia. Solo il caso, scongiurato, venissero investiti. Il giovane alla guida del camioncino è stato portato per controlli all'ospedale di Domodossola. Sul posto i carabinieri e i vigili fuoco di Domodossola, ai quali è toccata la rimozione, grazie ad un carro attrezzi, delle auto danneggiate. A Villa Dossola, un'auto condotta da un giovane di 19 anni, ha invece danneggiato una vettura parcheggiata in via Bianchi. L'auto investitrice si è poi cappottata. Nessuno è rimasto ferito.